Buongiorno Grazie. 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 Cambia, cambia. Secondo classificatore della spalla e la viene fuori che questo è davanti a quello la e quello diventa terzo. Noi abbiamo guardato solo lì. Allora bisogna aspettare che lui sta nella classifica così si vede se questo è prima dell'altro, questo è prima dell'altro, oppure se sono apparimenti. Se sono apparimenti in genere viene scartato più alto, non viene scartato più alto o più basso, viene fatta la punta. Tu quando dai il voto un peggio togli il voto più alto o il voto più basso e ottieni il punteggio del peggio dalla media del peggio. Se hai due pari merito fai la media considera di 5. Forse si vedono le classifiche che mettono pari merito. In Italia pari merito. Però terzo non è, non è più, c'è un cibo, è un nuovo terzo. Adesso bisogna aspettare che la spalla, bisogna aspettare un attimo per la spalla. Si, c'era vedere quella roba lei delle spalle, ma aiutami. Un po' di roba lei delle spalle. Con l'altro, c'è un po' di roba lei di sottolio. Quanto è di roba lei delle spalle? i numeri sono 50 e 67 un po' di cinsia sopra con la rinforzata Grazie. 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 Eccolo qua. Diego, abbiamo bisogno della tua esperienza. Sì, visto che è successo un caso simile per l'azienda del Vente.